Quindi nessun accordicchio sottobanco ma la luce del sole la verifica per costruire un programma possibile condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare. Verificheremo alla luce del sole queste condizioni che se non si realizzeranno porteranno il Paese ad elezioni anticipate, come abbiamo sempre detto. Ma oggi ripeto si è fatto un importante passo in avanti perché tutto il PD unito si è ritrovato in questa posizione.